Quest'oggi facciamo spoiler a manetta Ciao a tutti e benvenuti sul canale YouTube di Checkpoint Bitcoin L'intervista di oggi è con i ragazzi del team Bitpolito un'organizzazione studentesca che sta per lanciare il primo percorso di alternanza scuola-lavoro interamente incentrato su Bitcoin Con i fondatori di questa iniziativa ho discusso quali argomenti verranno trattati come si svolgerà il percorso, perché questa iniziativa è così importante Quindi se il futuro di Bitcoin vi interessa più del prezzo sui exchange Questa è l'intervista che dovete ascoltare Io sono Fabio, autore del sito Checkpoint Bitcoin un sito web nato per fare divulgazione su Bitcoin che è sbarcato su YouTube Quindi se vi interessano questo genere di contenuti iscrivetevi al canale Con questo vi saluto e godetevi l'intervista Benvenuti Giorgio e Salvatore su Checkpoint Bitcoin Grazie per essere qui Grazie a te Fabio Ciao, grazie a te per l'invito Ok, Salvatore fa un seguace di TurtleCut e ha deciso di tenere soltanto l'Avatar Lo rispettiamo Diciamo che a differenza di Turtle se cercate bene qualcosa di me trovate Io ancora a Turtle non sono riuscito a doxarlo Voi siete i volti, un volto almeno, dietro BitPolito e ho sentito che avete lanciato questa iniziativa di insegnare Bitcoin ai giovani studenti Che mi sembra una, mi è piaciuta tantissimo come idea, come iniziativa Quindi volevo parlarne con voi Magari adesso spiegate un po' di cosa si tratta e di come funzionerà Però prima di tutto magari introducetevi, spiegate cos'è BitPolito, che poi è l'organizzazione dietro questa iniziativa Ok, io sono Giorgio, sono un ingegnere informatico, uno studente del Politecnico E insieme a Salvatore è un altro ragazzo, quasi tre anni fa ormai praticamente, quasi tre anni E abbiamo fondato questo team studentesco perché sostanzialmente ci trovavamo sempre noi a parlare di Bitcoin nei corridoi del Politecnico Ma non ne sentivamo mai parlare dal punto di vista ufficiale, ufficioso Quindi abbiamo deciso di fondare questo team studentesco con l'obiettivo di fare divulgazione e ricerca soprattutto in ambito Bitcoin E poi avremo modo di spiegare meglio cosa facciamo con il team, faccio introdurre anche Salvatore Io sono come Giorgio, appunto, abbiamo studiato insieme l'ingegnere informatico al Politecnico E insieme un po' abbiamo fatto il percorso della discesa nella tana del bianconicchio Se vogliamo usare un po' termini che ai Bitcoiners sono comuni Quindi abbiamo fondato questo team tre anni fa Ti dirò, vi dirò, con l'idea di fare qualcosa per Bitcoin, per Bitcoin, per i Bitcoiners Ma il primo anno poi c'è stata la, come dice a carbone, la scandemia O se vogliamo usare termini ufficiali, la pandemia Quindi siamo stati costretti a portare il team avanti in maniera solo, diciamo, online Successivamente però, quando le acque si sono calmate Siamo ritrovati con un bel gruppetto di Bitcoiners della nostra età Che in parte ci hanno visto e si sono radunati In parte li abbiamo, tra virgolette, creati E quindi da lì in poi il team è un po' esploso Abbiamo fatto delle attività di ricerca sia sul mining sia un po' a livello criptografico Stiamo andando forte con la divulgazione E Bit Generation è l'ultimo, diciamo, dei prodotti in questo termine E quindi adesso crescendo come team I nostri obiettivi rimangono sempre quelli che abbiamo pensato Quando l'abbiamo fondato E cioè sicuramente fare divulgazione Perché crediamo che l'adozione passi dalla divulgazione E dal creare un movimento culturale Che abbia la base, temi e ideali Che appartengono appunto al mondo Bitcoin Fare ricerca, migliorare nella ricerca Essere attivamente contributori Contributors del mondo Bitcoin Perché comunque siamo in un ambiente, una bolla Quella dell'università dove ci sono talenti Vogliamo canalizzarli nel mondo Bitcoin E questo Poi non so Gio se vuoi aggiungere altro Io appunto attualmente sono ancora mezzo dentro il poli Come studente, nel frattempo lavoro Ma diciamo questo è abbastanza veniale Se pensiamo Se consideriamo la passione in Bitcoin Che è forse quella che più mi manda avanti Mi manda avanti, ci manda avanti Ed è in Bitcoin più o meno ci riconosciamo Sì la divulgazione è importante Anche perché la stampa generalista Insomma non è che mette in circolo Delle informazioni accurate Da tutte le parti Fa un'ottima informazione Perché è strano motivo Quindi però Questo rende ancora più importante La vostra iniziativa Di portare Bitcoin Come dire tra i banchi di scuola Quindi spiegateci di cosa si tratta Questa iniziativa Quest'oggi facciamo spoiler Per la manetta No siamo usciti già con Siamo usciti già con qualche annuncio Il progetto si chiama Beat Generation Ed è un progetto appunto Che parte con un progetto pilota Che sarà quello che vi racconterò a breve Ma che vuole poi diventare qualcosa di più strutturato E che sia scalabile e ripetibile Anche in altri contesti Il progetto come tutte le cose più belle Nasce in maniera spontanea Casuale Sostanzialmente Non così casuale Perché nasce Contestualmente A un evento che abbiamo organizzato Al Politecnico Una conferenza Noi con il nostro sottogruppo Di Bitpolito Eventi Organizziamo una conferenza Ogni due mesi Qua al Politecnico Dove invitiamo ospiti Da tutte le parti In quella circostanza C'era Ricky Del Bitcoin Italia Podcast Che è venuto a fare Uno speech E sostanzialmente A fine speech Un ragazzo venuto da me Dicendomi che Era il figlio di un professore Di un liceo di Torino Che aveva piacere Di mettermi in contatto Appunto con suo padre Perché suo padre Era molto interessato al tema E voleva portare In un qualche modo Questi tipi di contenuti All'interno dei licei Ecco io Ovviamente Mi sono dato disponibile Mi sono messo in contatto Con questo docente Che mi ha subito contattato E mi ha chiesto sostanzialmente Di portare un contenuto Che fosse di tipo introduttivo Anche perché Ovviamente parliamo di ragazzi Neodiciottenni Che nella maggior parte dei casi Non sono nulla di Bitcoin Oltretutto parliamo di un liceo classico Non di un ITIS informatico Di uno scientifico Un liceo classico Quindi ben pochi Sanno minimamente Che cosa sia Bitcoin Che cosa sia una rete distribuite Quindi da lì l'idea Di preparare Uno speech Di un paio d'ore Un'ora e mezza Più una mezz'ora di Q&A Dove presentare appunto Bitcoin Partendo da una classe Quindi io personalmente Ho preparato Uno speech Una presentazione Sono andato in questa classe Una quinta Ho presentato Bitcoin L'idea è piaciuta molto In generale ai ragazzi E anche al professore Che ha deciso di ripetere Questo esperimento Ad oggi siamo circa Sei classi Nelle quali sono andato A raccontare Questo sempre Questo solito speech Di introduzione Dopodiché il professore Tra l'altro la cosa bella È che tutto questo Viene svolto in un contesto Di educazione civica Cioè le ore che io vado a fare Al politica Sì al politica Al liceo Alfieri Per gli studenti Sono le ore che loro Sono obbligati a fare Come attività esterna Di educazione civica Quindi questa cosa Ci tengo a sottolinearla Questo è il primo utilizzo Che sento di educazione civica Che in qualche modo Mi piace Esatto E sostanzialmente Il docente dopo Appunto due o tre volte Che sono andato Ha detto ma Ascolta ma i ragazzi Sono obbligati Durante il triennio A fare 300 ore Di alternanza scuola lavoro Che ormai non si chiama più Alternanza scuola lavoro Ma si chiama PCTO Mi ha detto Ma perché non Non ci studiamo qualcosa Per approfondire un po' Dato che il tema È molto ampio E ovviamente in due ore Io vado là E dico niente di tutto Perché ovviamente La tana del bianconiglio È molto profonda E conoscere ogni argomento È molto complesso Quindi perché non Facciamo un progetto Un po' più strutturato Di qualche ora in più Dove espandiamo il discorso Andiamo a raccontare ai ragazzi Effettivamente Un po' meglio Cos'è Bitcoin E noi ci abbiamo riflettuto Un po' Ci siamo messi lì Abbiamo detto Perché no Sicuramente è un'opportunità Interessante Prima di tutto Da un punto di vista Divulgativo e formativo Perché facciamo conoscere Bene la tecnologia A dei ragazzi giovani Che quindi È molto positivo Perché i giovani Sono quelli che hanno Più energia Più voglia Di farlo poi conoscere A loro volta Qualcun altro E poi perché È un po' Una prima storica Dal punto di vista storico È interessante come concetto L'idea di Approciarsi In maniera istituzionale Quasi A una scuola E fare formazione Orientata bene A Bitcoin Senza Lasciando perdere Shitcoin varie E cose Che distraggono Semplicemente E quindi abbiamo detto Perché no Strutturiamo un percorso Di 30 ore Dove 30 studenti Del liceo Alfieri Verranno da noi Per un corso Di formazione Bitcoin Dalla teoria Alla pratica Quindi abbiamo Diviso il corso In 10 lezioni Da 3 ore Di cui 5 lezioni Teoriche E 5 lezioni Pratiche Cosa vuol dire Che nelle 5 lezioni Teoriche Andiamo a vedere Tutti i macro argomenti Legati alla Teoria di Bitcoin Quindi l'aspetto Economico L'aspetto informatico L'aspetto matematico Quindi criptografia Eccetera L'aspetto sociale L'aspetto di teoria Dei giochi Mentre invece Nella parte pratica Andiamo a mettere Proprio le mani In Bitcoin Quindi creiamo Creiamo una seed phrase Con un hardware wallet Tra l'altro Piccolo spoiler Ma in realtà L'abbiamo già annunciato Ve lo faccio vedere Perché sono arrivati Proprio giusto oggi Cos'è? Shift Crypto Shift Crypto Ci ha regalato 6 Bitbox 02 Da poter Far maneggiare I ragazzi Poter sperimentare Poter generare La loro seed Quindi abbiamo Vi ho già annunciato Il primo sponsor Ma che in realtà Abbiamo già reso pubblico Il secondo Il secondo è Conio Che finanzia Il progetto E non solo Tutto il team Durante l'anno E Facciamo generare Una seed Li inseriamo A proteggere Una seed Il buon salvatore Ci ha abbandonati Ma si riunirà Facciamo generare Una seed Li inseriamo A proteggere Una seed Li facciamo Installare Un nodo Sul proprio computer O gli diamo A disposizione Uno se non ce l'hanno Li facciamo Esplorare La time chain Direttamente Dal loro nodo Li facciamo Capire cosa vuol dire O ottenere privacy Attraverso bitcoin E in più Come conclusione Come ciliegina Sulla torta Adesso Non posso farvelo vedere Perché è un po' Nascosto laggiù Nell'angolo Abbiamo anche un miner Un S9 Che abbiamo comprato Con Tra l'altro Finanziato nel Politecnico Con i soldi Del Politecnico Che ringraziamo Grazie Politecnico Grazie a tutti gli sponsor Ottima iniziativa Di Torino La domanda Poi l'energia La pagherà Immagino il liceo Però vabbè Non divaghiamo Quindi avete anche un miner Quindi si parlerà Anche di mining Parliamo anche di mining Vogliamo fare bitcoin E la pratica completa Dal tuo hardware wallet Per generarti la tua seed A come si installa un nodo A fino a Arriviamo a minare Capiamo cosa vuol dire minare Ovviamente non è che Abbiamo un S9 Gli facciamo giocare un po' Non si può Anche in 30 ore E poco Sono poche anche 30 ore Però cerchiamo di dare Un'infarinatura Complessiva Di appunto Sì di tutto Insomma il mondo bitcoin Soprattutto da un punto di vista Tecnologico Mi pare di capire Cioè l'idea è quella Di portare bitcoin In tutte le sue sfaccettature E poi di fargli mettere mano Anche su quegli aspetti Che sai Magari sembrano più Spaventosi Soprattutto per chi Non ne ha mai sentito parlare Però di solito sai Farsi il wallet Il seed Pure il mining Cioè Siamo proprio a livelli Ok è una bellissima iniziativa Io vi faccio i complimenti Perché sembra veramente interessante Quante scuole ci sono coinvolte Al momento in questo progetto Quanti insegnanti Perché tu sei uno Salvatore un altro Cioè voi non potete scalare Cioè Come vi siete organizzati Un po' da questo punto di vista Allora Parto Partendo Scusami Gioca di parole Da quello che faremo In questa edizione Di Biz Generation Cioè in questo specifico corso Che terremo Interamente al Politecnico Allora i docenti Non so Salvo Se posso già spoilerare Vabbè Ok sono Scusate Mi hai lasciato Non tutti Non tutti Non tutti Vabbè Possiamo dire Che la prima lezione Sarà con il priore Giacomo Zucco Quindi è proprio una benedizione Diciamo Dall'alto Partiamo con Esatto Una benedizione dall'alto Poi ci saranno Tanti altri speaker Per un totale di 5 5 speaker Che terranno 5 lezioni diverse Diciamo di Conosciuti internazionalmente Mentre invece ci saranno Le altre 4 lezioni Saranno tenute da noi Sulla ente del Politecnico Più ci sarà l'ultima Dove ci sarà il test L'esame finale Ecco perché mi sono dimenticato Prima di dire questo Che durante tutto il percorso Gli studenti Saranno tenuti a Sviluppare Una loro ricerca Potremmo definirla Una loro analisi Un'esplorazione Di uno use case Di bitcoin Che durante tutto il percorso Svilupperanno Alla fine L'ultima lezione Ci presenteranno E Dopodiché Noi faremo alcune domande E dopo La presentazione Le domande La verifica Delle competenze acquisite Rilascieremo un certificato Timestampato Sulla blockchain Così anche gli Shitcoiner potranno dire Che la blockchain Non serve solo a bitcoin Quindi Avranno anche un qualcosa Da portarsi a casa Ecco un certificato Per il valore che ha Comunque Che rilasceremo Noi come team studentesco Per aver dato prova Di aver seguito bene il corso E di essersi informati L'idea è che Questo corso Che organizzate Non avviene Nelle normali Cinque ore di scuola Che si fanno la mattina Quindi l'idea è Che ci sono degli studenti Che devono fare queste ore Extracurriculari E qualcuno In questi licei Può scegliere Di fare il vostro percorso Piuttosto che un altro Diciamo che un alternativo in più Esatto Ok Esatto Gli studenti sostanzialmente Hanno a disposizione Un database di possibilità Dove ci sono aziende Enti Dove andare a praticare Queste ore E noi siamo una Di quelle alternative È stato interessante Perché la proposta È stata fatta Alla seconda lezione Alla terza lezione Che io ho fatto E tra la quarta E la quinta Avevamo già finito i posti Nel senso che Nel giro di pochissimo Tutti i 30 posti Sono stati occupati Quindi in realtà Nel liceo classico Nel liceo Liceo classico Nel liceo alfieri Perché tu hai riscettico Dici questi che fanno Il classico Ma il bitcoin Gli interessa Dicono In realtà Invece no C'è molto interesse Ed è molto bello Oltretutto Adesso stiamo valutando Anche Dovremmo parlare Giusto stasera Abbiamo il consiglio Del team studentesco Per prendere un po' Di decisioni In merito Ci sono anche altri Altri istituti Che sono interessati Tra cui anche L'università Di economia In particolare Che è interessata A partecipare al corso A portare qualche studente Quindi in realtà Stiamo valutando Se espandere il corso A qualche altro studente Oppure tenerlo limitato Per questi 30 studenti Stiamo ancora valutando Quest'ultimo dettaglio Però diciamo che Il corso è stato studiato E è organizzato insieme Al liceo alfieri Di Torino Al momento L'iniziativa Si svolgerà per questo Liceo Classico Di Torino E non ci sono All'interno All'interno degli spazi Del Politecnico Quindi lo faremo tutto Nelle aule del Politecnico Il percorso sarà Interamente video registrato E messo online Gratuitamente Per chi lo vuole Quindi è tutto Fluibile Assolutamente gratuitamente Online E dopodiché Ovviamente Questo come ti dicevo È un progetto pilota Che ha l'ambizione Poi di scalare Di essere replicato In altri contesti Adesso non abbiamo Ancora trovato La formula magica Per replicarlo In contesti diversi Ma diciamo che È nostro obiettivo Entro la fine Del percorso Diciamo Trovare Le dinamiche Gli asset Le risorse Le speaker Che ci servono Per ripetere Questo progetto Al termine Sicuramente Le lezioni Che registreremo Sono un asset Molto utile Per le altre scuole Che in futuro Dovranno fare Un percorso del genere Che si troveranno Già magari Delle lezioni Path Complete Un percorso Sensato Che potranno seguire E poi magari Le ore di PCTO Potranno servire Per fare qualcosa Se scalando L'anno prossimo In altre scuole Per esempio Questa parte Tutta di teoria Potrebbero seguirse Online Vedendo ciò Che abbiamo fatto Quest'anno E magari Fare più parti Pratiche Dove Imparano a programmare O dove Vedono più nel dettaglio Certi aspetti Di COINCREDI In questa occasione Trascuriamo Quindi Vogliamo scalare Ma non soltanto Come quello di scuole Ma anche Come qualità Di offerta Che riusciamo A dare E anche Andare Sempre più nel dettaglio Magari Con percorsi Differenti Non per studenti Liceali Ma per studenti Universitari Che vogliono imparare a programmare Nel mondo Di COIN Non vogliono Mettere la mano in pasta Quasi vuol dire Sì Mi pare di capire Che il focus principale Sia l'aspetto tecnologico Però Tutto ciò che ruota Attorno magari Al lato economico Cypherpunk Insomma Tutti gli altri aspetti Dal bitcoin Vengono un po' Non trascurati Perché sicuramente Non vengono trascurati Però il focus Non è quello Sì Diciamo che C'è uno spazio Dedicato a quello Nel senso che Banalmente Le prime tre ore Sono sul territorio Della moneta Cos'è il denaro E quindi Il fiat standard Contro il bitcoin standard È una lezione tenuta Dal priore Quindi Ci sarà sicuramente Un contenuto Di altissimo livello Che va in quella direzione Ecco Abbiamo dovuto Ovviamente Fare un po' Di selezione Degli argomenti Abbiamo Ci abbiamo tenuto Cioè ci teniamo Ci tenevamo Molto A lasciare Ampio spazio Alla pratica Nel senso che Molto spesso Tutto il materiale Che già c'è Online Sono tutti Speech Legati al Ti spiego cos'è bitcoin Ma poi Mettere le mani in pasta Cioè mettere le mani Su un hardware wallet Generare un seed Scriverselo su un foglietto Vedere come Che comandi Scrivere su un miner Come installare Un proprio no Cioè Quelle robe lì Sono le cose Che non è Non puoi fare Guardando un video Ma che devi fare Mettendo le mani in pasta Quindi noi Abbiamo voluto lasciare Spazio a quello E ovviamente Lo spazio Per tutti gli aspetti Economici Più sociali Cypherpunk E eccetera Che ovviamente Teniamo molto Sui quali Ovviamente teniamo molto Quindi per dire Che sostanzialmente Abbiamo dovuto tagliare Un po' Su alcuni argomenti Però comunque ci sono Banalmente la seconda lezione Sarà su Le tematiche di Inclusione finanziaria Quindi ci sarà Anche il discorso Di libertà Legato a bitcoin Quindi ci saranno Sul manifesto E eccetera Eccetera Adesso non spoileriamo Sì Sì ok Prendete un po' Si parte dalla tecnologia Ma tanto poi L'idea è che poi Anche magari uno Cade nella tana E poi il percorso Solo fa da sé Esatto Quello è Inevitabile Non basta Neanche 30 ore Cioè nel senso Se uno poi vuole approfondire Siamo tutti bitcoiner qua Quindi sappiamo tutti Qual è il percorso La montagna di libri Cresce sempre di più Che uno legge Ed è quello il bello Nel senso che più uno Entra nella tana Più legge un testo Ma poi ne legge un altro Poi ne legge un altro Cioè credo che Neanche Giacomo Zucco Sia un bitcoiner Già finito Nel senso che È sempre un Progredire Un ampliare I propri orizzonti Quindi questo vuole essere Un kick off Un'iniziazione Un'iniziazione a proposito Un'iniziazione a proposito di Esatto 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 Bello 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 Molto Dobbiamo inventarci Un metodo Di iniziazione Rituale Abbiamo una spada Giacomo Ok Quali sono le Le difficoltà Che magari Avete incontrato Se ce n'è stata qualcuna O le obiezioni Che vi fanno Durante questi speech Che fate su bitcoin Magari nelle scuole Soprattutto dai più giovani Io Io quando provo A parlare Di bitcoin Di solito Mi menzionano sempre L'argomento Cambiamento climatico Ormai è un'associazione Di idee Sì Quale invece Nella vostra esperienza Sì Ti posso dire In realtà Questi speech Ci ho sempre fatti io Nelle scuole E tra l'altro Ne ho fatto uno Anche qua al Politecnico E giusto ieri Ne ho fatto uno Anche in un'associazione Culturale Vicino a Cuneo Sempre qua in Piemonte E mi hanno chiesto di andare E poi le domande Sono sempre le stesse Sia che siano ragazzi Sia che siano Anziani In realtà Sono un po' di differenze Ma sui giovani Che era quello L'argomento della domanda I giovani sì Hanno a cuore Ovviamente La questione climatica Quindi Appena inizio a parlare Di mining La prima domanda È quella Legata al clima E poi una cosa Che ho notato Veramente tanto E questo non ha età Nel senso che Sia i vecchi Che i giovani Sono domande Che manifestano Una Completa assenza Di educazione finanziaria Cioè di non comprensione Banalmente Di meccanismi Di domanda offerta Domande del tipo Ma non è possibile Che un giorno I bitcoiner Li avranno Li avranno tutti In tre persone Si compreranno Tutti i bitcoin Domande Che sono Da un punto di vista Come facciamo Senza inflazione Sì In realtà Mi è successo In una Quinta Un ragazzo Molto informato A liceo In giacca e cravatta Per farvi capire il tipo Che mi ha parlato Del Politiche di stabilità monetaria Di quanto fosse importante Che ci fosse In un istituzione Che mantenesse Un certo rigore Una certa Un certo orizzonte Strategico Una strategia globale E quindi lì in realtà Poi diventa interessante Perché si crea Un contraddittorio Nel quale Va bene Nel contesto liceale Magari poi Escludi mezza classe Perché si perde Alla quarta Alla quarta affermazione Alla quarta parola Che non conosce Ecco Però in realtà Ci sono questi studenti Brillanti Con i quali Ovviamente Che sono Magari indottrinati Chiamiamoli come vogliamo Ma che hanno una certa Direzione di pensiero Con i quali In realtà Si instaurano Anche dei bei Dei bei discorsi L'altra sera Cuneo Ho parlato invece Con un signore Di Avrò avuto 75 anni Che si è messo lì A dirmi Sì ma noi abbiamo Costruito tutto questo sistema Per una serie di motivi La regolamentazione Che c'è Per esempio Nella zona UE Ci ha permesso Di arrivare A certi risultati Tu vieni qua E mi dici Che vuoi stravolgere Tutto quanto Ma È interessante Anche lì Perché poi si è costruito Un bel contraddittorio Un bel dibattito La cosa che fa Più specie È Che questo discorso qua Non arriva da un giovane Ma arriva da una persona Che ovviamente Ha vissuto Tutta la sua vita Secondo Una certa struttura Per cui Tu prenderlo E dirgli Guarda Questa struttura qua Devi Accartocciarla Buttarla E dobbiamo ricostruire Qualcosa Spaventa Cioè era proprio Spaventato Mi diceva Sembrava un rivoluzionario Di quelli Degli anni Rossi Cioè No in realtà Al contrario Non ti preoccupare Non voglio fare Assolutamente quello Però vedi Queste persone Che sono spaventate Da Da queste tematiche Poi anche lì Ovviamente Essendo uno speech Introduttivo Non sono Non sono sceso Nel dettaglio Di nulla Quindi poi in realtà Lì con un dibattito Uno si capisce E Si viene in incontro Con Con gli argomenti Però Sì E' molto interessante Vedere Le questioni Che vengono sollevate Poi appunto Nella maggior parte dei casi Sono sempre le stesse Sì Sono sempre Scusami Sono sempre le stesse Perché in realtà Non sono domande Che uno si pone Perché Ha fatto un'analisi Di ciò che gli esponi E quindi Ha un input Diciamo Elabora Ed ha un proprio output Ma in realtà È una risposta Una risposta Automatica Automatica E Tg1 Specchio Tipo Sì esatto Fare una metafora Come Se fossero Sì è come fosse Uno specchio Arriva lì In un input Che è Sì Le fasce di luce Che è L'argomento Che tu esponi E loro Hanno già Qualificato La risposta Che magari Non viene Dalla propria Autoanalisi Della situazione Dell'argomento Quindi È l'unica cosa Che hanno sentito Magari Perché hanno parlato Il tg1 Di bitcoin Droga Bitcoin Cambiamento Climatico E quindi Loro Quei due Temi Sui quali Possono Creare Un Farti delle domande Per avere Dei chiarimenti Però è bello In realtà Che ci siano Queste domande Qua perché almeno Puoi fare un Devanking Perché non so Se io faccio Uno specie di Introduzione Di un'ora e mezza Non è che posso Spiegarti Che bitcoin È una macchina Termodinamica Perfetta Che trasforma L'energia In assoluta Scarsità Cioè non posso Arrivare a un Certo livello Di profondità No Per cui Devo Essere superficiale E poi però Sfrutto la domanda Invece per farti Un 5 minuti Di pippozzo Dove ti spiego Invece perché Io parto sempre Con una provocazione In realtà bitcoin E la soluzione Climatica Non è il problema E quindi Sai già Con la provocazione Li agganci E poi lì Tu gli spieghi 3-4 punti In maniera un po' Semplificata E lo capiscono Cioè C'è da dire Che la maggior parte Dei persone Mi dice Ah cavolo Non l'avevo mai vista Così Perché non gli ha mai Spiegato a nessuno Quindi se non vanno A sentirsi Le conferenze A cui andiamo noi Non le sanno Infatti L'aspetto Secondo me È molto interessante Di questa iniziativa Poi accendo la luce Perché sto Diventando come L'avatar L'aspetto interessante È che proprio Si va a prendere Le persone Come dire Non quando sono davanti La tv Ma mentre Praticamente Sono indifesi Che sono in un luogo In cui devono imparare In cui si presuppone Che debbano imparare Qualche cosa E quindi Magari hanno anche Un approccio diverso E Essendoci degli interlocutori Non Una forma di Sai Istruzione passiva Come la televisione Che ti dice Ah il bitcoin Vuole Succederà questo Spariranno gli acciai Morerà l'orso polare Così via Qui ci sono Degli interlocutori Che tra l'altro Hanno anche delle Hanno delle risposte A quelle A quelle Affermazioni Insensate Perché molto spesso Magari Chi ne parla Non ha delle risposte O non le Non li pone Propri Quei siti Cioè Le Le critiche Che vengono mostre Io noto Che sono spesso Poste Sai In maniera Come un bias No? Sono impostati In quel modo Mentre con Questo tipo Di istruzione Che volete fare voi Secondo me L'aspetto interessante È che proprio Ci può essere Un Come dire Uno scambio Di punti di vista Di informazioni Soprattutto E Soprattutto Si va a prendere Persone giovani Che poi parleranno Con altri giovani E sentiranno Le minchiate Del terrorismo Del 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 clima E così via E poter Nella loro volta Portare La parola Del profeta In giro Per le comunità Si è È un po' Quello L'obiettivo Anche Cioè L'idea Di Di creare Un Una Pletora Di Di Insomma Il meccanismo Della virus Idea No? L'idea Che noi Innestiamo Quest'idea Questi concetti Attraverso Come dicevi Te Un'istruzione Attiva Cioè Io vengo Lì Perché Devo Imparare Perché Poi Alla fine Ti devo Rilasciare Un certificato Questo PCTO È valutato Cioè Nel senso Che tu puoi Bocciarli Sti ragazzi Sti ragazzi Sti ragazzi Devono Rifarsele Quindi Quindi Anche Anche Loro Hanno Tutti L'interesse Del Mondo A fare In modo Che Apprendano Quelle Cose Quindi Loro Sono Lì Attivi Devono Imparare Tu Noi Ovviamente Cerchiamo Di dare Il massimo Del livello Di contenuto A livello Da un punto di vista Qualitativo In maniera tale Che il contenuto Arrivi Buono Giusto I ragazzi Apprendono Queste cose E poi Possono Uno Appassionarsi Entra nella Tana E avanti E due Anche solo Avere un set Di Conoscenze Che quando La zia Dice Ho fatto i milioni Con Shiba Inu O Ti dice Bitcoin Inquina Hai qualcosa Da dire Sai Spiegarle Perché sta Dicendo Una Boiata Ha fatto i milioni Con Shiba Inu Complimenti La zia Poi non Le si potrà Dire niente Però Dicevo che Nel 99% Dei casi La zia Non fa i soldi Con Shiba Inu Ma Ho perso tutto Con Shiba Inu Forza la più credibile Esatto 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 No ok Molto Molto figo Come iniziativa Ma vi hanno contattato Qualcuno Per dirvi Ah venitelo a farlo Anche da noi Venite Anche a chi Io lo voglio provare Magari anche D'altre zone d'Italia Cioè se uno Oggi Vuole Vuole partecipare Può farlo Ad oggi No Nel senso Noi questo progetto qua L'abbiamo studiato Con Il liceo Alfieri E adesso ci ha chiesto Un'università qua di Torino Possiamo anche dirlo La sa Ci ha chiesto Di mandare qualche studente Per seguire questo corso Stiamo valutando Se inserirlo Perché noi avevamo Pensato il progetto Soltanto per il liceo Alfieri Dopodiché Il contenuto È offruibile da chiunque Ci hanno chiesto Per rispondere alla tua domanda Da Roma Dalla Liguria Università di Genova Qual è Qual è Da Milano Con Bitpolimi Si sta riformando Abbiamo anche la succursale A Milano Di Bitpolito C'è anche Bitpolimi Si voleva fare una cosa del genere Adesso non sto neanche dietro A tutti quanti Sono dietro quelli che ho sentito Personalmente io Ma c'è interesse Cioè La cosa Ha di stato molto interesse E c'è anche appunto L'idea di scalare L'anno prossimo Quindi Diciamo Se la domanda A chi Cioè Se si può partecipare A questa edizione Mi Cioè Potete seguire Le lezioni online Anche sentirci Iscriverci Adesso è davvero fattibile Per i post Nel percorso Di presenza Diciamo che siamo Sotto Ma l'intenzione È ripetere Questo Percorso Con quante più scuole possibili Ovviamente Non puoi farlo Contemporaneamente Ma Ci può pensare E penseremo In questi mesi Poi Così da annunciare Poi verso Settembre Ottobre Col nuovo anno Accadente Diciamo Delle soluzioni Per le altre scuole Anzi Questa è l'occasione Per noi Metterci mostra E far vedere Guardate Esiste questo percorso E per chi vuole Candidarsi Così Da analizzare Caso per caso Scuola per cosa Scuola per scuola E offrire Questo percorso A tutti Perché La nostra intenzione È creare bitcoin Quindi Più Ci contattano Meglio Più bitcoin Nascono Ok Quindi diciamo Che poi Fra un anno Si può vedere Cosa è funzionato Cosa no E poi Perfezionare Il percorso E creare Qualcosa Che può scalare Magari Anche in altre parti E senza la vostra presenza Perché comunque Non vi potete sdoppiare Esatto Vogliamo coinvolgere Quanti più speaker possibili Di livello E un'altra prerogativa È che non vogliamo Vendere questo corso E fare l'ennesima Accademia A pagamento Ma vogliamo Sia un percorso Rituito Libero Spontaneo Spontaneo Tra l'altro Bitcoiner In Italia Ce ne sono tanti Almeno Nella mia esperienza Bitcoiner Duri e puri Mettiamola così Ce ne sono tanti Quindi magari In futuro Si potrebbero anche Coinvolgere Le persone In qualche modo Al limite Non sarà un problema Di mancanza di cervelli Per portare Le tematiche Di bitcoin In giro Magari ci saranno Altri tipi di problemi Urocratici E compagnia Bella Ne approfitto Per fare un ringraziamento Anche a questo professore Deliceo Alfieri Perché Non è Noi diamo tutto così Per scontato Se facciamo il PCTO Con un liceo Educazione civica Parliamo di bitcoin Ma diciamo che è una cosa Per niente banale Nel senso che Possiamo ringraziare Di aver trovato Questo professore Casualmente Che è molto aperto E probabilmente Anche molto influente All'interno Dell'istituto In maniera tale Che è riuscito A organizzare Questa roba Quasi effortless Cioè senza Grossi impegni Grosse sbatte Ecco Significare Però Non è banale Cioè lui È riuscito a portare bitcoin Due ore di bitcoin Come educazione civica Per dei ragazzi E in più Trenta ore di bitcoin Come alternanza scuola lavoro Che non è Non è banale E noi lì Il nostro ruolo è semplicemente Stato Ok sì lo facciamo Poi è stato lui Comunque all'interno del liceo Noi comunque Come bitpolito All'interno del Politecnico Abbiamo molta libertà in più Cioè siamo un team Studentesco Che parla di bitcoin Quindi Cioè se chiediamo Al Politecnico delle Aule Per fare della divulgazione In ambito bitcoin E il nostro ruolo Cioè nel senso Abbiamo fatto una richiesta a fonti Ci hanno finanziato per quello Ok Però all'interno di un liceo Parliamo proprio di un altro contesto Molto più Statico Diciamo che Il Poli è molto più dinamico Ecco Sì Quindi Andiamo a Cesare Quel che è di Cesare Complimenti anche al professore Speriamo che ci ascolterà Complimenti Grazie professore Lei si è distinto Ok Didei che abbiamo detto abbastanza Su questa iniziativa E poi magari Uno che vuole informarsi Dopo daremo i contatti Io vi farei La domanda Di rito Che pongo A tutti gli interlocutori Che intervengono Che sono intervenuti Che interverranno Su questo canale Quindi la domanda di rito È questa Magari mi date una risposta All'uno Qual è quella caratteristica Di bitcoin Quella proprietà Che vi piace di più Vai tu Salvatore Ah sì dai va bene Vai Salvatore Poi Joe Diciamo che la più importante È diversa Da quella che Mi ho fatto vedere Nella tana Se vuoi Perché è una proprietà Che ho scoperto Anzi Che continuo a scoprire Nel vivere Viverlo Ed è la Diciamo La proprietà Mimetica Di bitcoin Cioè Che è un'idea Talmente forte Che si diffonde Come un virus Lasciano stare L'aspetto tecnico Lasciano stare L'aspetto economico Lasciano stare L'aspetto Qualsiasi altro aspetto Ma è proprio L'idea in sé Che è la sua velocità Di diffusione È l'impatto Che ha Nella vita Di una persona Quando questa idea Si irradica Quella è una proprietà Più importante Perché L'idea è così Forte e virulente Sono idee Che nascono Magari ogni millennio Rivoluzioni Mimetiche Di questo tipo Quindi secondo me Quello è l'aspetto Fondamentale Immagino Quanto Possa essere Come dire Entusiasmante Per te Allora portare avanti Un'iniziativa Come questa Di bitcoin Tra gli studenti Sulla base Di questa risposta Si esatto È una vocazione Ok Giorgio Ma allora Ce ne sono tantissime Diciamo che Ho dovuto riflettarci Un po' Forse quella che più Mi affascina Perché In fondo Sono un po' Sono un nerd Ingegnere informatico E partendo dal concetto Di difficulty adjustment L'autonomia L'indipendenza L'antifragilità Del protocollo Cioè Il fatto che Sia un insieme Di regole Che di fatto Leva di mezzo L'umano Dall'equazione Cioè per me È meraviglioso Perché da ingegnere Ho sbattuto la testa Contro la matematica Fino a capire Che di fatto È l'unica forma Di perfezione Che esista Nell'universo L'unica cosa esatta Davvero E trovare un modo Esatto Di definire Il valore Di scambiare il valore Nell'interno dell'economia Per me È un miracolo Assoluto Bellissima risposta Bellissima risposta Bellissime risposte Tutte e due Devo dire la verità Bitcoin è sempre Sai Mi piace perché Ogni volta Mi aspetterei Di sentirmi una risposta Qualunque Invece arrivano sempre Risposte diverse A queste domande È fantastica La varietà Con cui si riesce A guardare A Bitcoin Ok Questo forse È l'altro aspetto Questo è L'altro aspetto Ok Chi vuole Entrare in contatto Con voi O scoprire Di più Su questa iniziativa Magari poi Fra un anno Ci risentiamo E facciamo Una recap Di quanto accaduto Se vi va Però Per il momento Per il momento Chi vuole Trovarvi Sia voi due Proprio individualmente Che Bitpolitò Vabbè Io sono Giorgio Rasetto Mi trovate su Twitter Invece Per quanto riguarda Bitpolitò Si trova Sostanzialmente Su tutti i social Così Come 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 si Come si pronuncia E su Telegram T.me Slash Bitpolitò C'è il forum Abbiamo più di 500 Partecipanti Lì Vi aggiorniamo Con tutte le news E altrimenti Anche lì Twitter Come riferimento Poi Instagram Bitpolitò.it Come sito Bitpolitò.it Mi dico sempre Il principale Vabbè Bitpolitò.it Per tutti gli aggiornamenti Su questo progetto Non abbiamo ancora fatto Un sito Lo faremo Per adesso abbiamo fatto Una specie di White Paper Un documento Dove raccontiamo Il progetto Lo pubblicheremo A breve Sul nostro sito Sui social Su Twitter Quindi Se ci seguite su Twitter Trovate tutto qua Abbiamo anche un canale YouTube Dove mettiamo Tutti i nostri contenuti Divulgativi Dove metteremo le lezioni Esatto Ok Quindi Qui si vuole andare Quindi ritroverete tutti i contenuti Esatto Benissimo Benissimo Che dire quindi Io vi ringrazio Per aver partecipato A questa call È una iniziativa Fantastica Sono veramente curioso Di sapere come evolverà E quali lezioni Vi porterete a casa Da qui A un anno Quindi niente Grazie per aver partecipato E poi ci risentiremo Ci ritroveremo Grazie a te Fabio A presto Salute Ciao